La battipagliese ha reso noto di aver tesserato il calciatore Michele Vigianello, difensore classe 99, cresciuto calcisticamente proprio nella battipagliese prima di approdare nella passata stagione al campagna. Fatto ritorno alla base, Vigianello non ha nascosto tutta la sua soddisfazione. Sono contentissimo per essere ritornato a battipaglia, ha affermato il difensore. Non vedo l'ora di ricominciare per poter dare il massimo in campo. Contestualmente la società bianconera ha comunicato l'avvio del secondo stage per i nati negli anni 99-2000-2001. L'appuntamento per gli interessati è per mercoledì 25 luglio alle ore 18 presso l'impianto Sant'Anna di Battipaglia.